Ciorma Questo silenzio cose Sveglia Tutti a rapporto da me Spugna Pendaglio da forca Possibile che nessuno si muore Ma sono noi comandanti Di questa luridana Di questa luridana Palla di Lavezzi dentro l'area di Ricola Che c'è da Napoli con Fre Che deve salvare Sveglia in condizione di maggio Lamsi desterno per Lavezzi Condizione delle colare Lavezzi è solo davanti a Fre Lavezzi E poi arriva Quagliarella Fre due volte Fre due volte E voando nel fronte Ottimo l'anticipo di pazienza Su Zaletti Trovato Amsic Tuttato posto Tuttato di rigore Amsic accede La punta a Natale Niente Del sinistro Calcia Ancora Fre Palla di Natale Pagliarella Davanti a Fre E prende a fare questa Perché Pagliarella L'hanno già trovato Il poco con la punta Nessù Amsic E poi prete di regolare Amsic Non riesce a passare Va recuperare il pallone Viene trattenuto Calcia di rigore Calcia di rigore per il Napoli E' un piccale addosso Pronto a partire Pagliarella Con il destro Fre Il calcio d'angolo Ancora Sebastiano Fre La porta è chiusa Pagliarella Non posso dire Maggio Pagliarella Pagliarella Ancora gli risponde Pagliarella Corre Amsic C'è l'alto Dennis Lo serve adesso Giovedere Tlovacco Può correre Dennis La palla resta in campo Eccolo qui Ancora Dennis Che va a grossare Dentro per Maggio E il Napoli passa All'ottantonesimo minuto Come sette giorni fa Ancora Maggio decisivo Come fosse Mamma Cura Pagliarella Episodio E' un gol, difficile, difficile mettere il Kelly in quel modo e bandere un portiere come Frey, c'è Rullo che abbraccia Quagliarella, tutti ad abbracciare Quagliarella in una panchina, l'inchino di maggio.